Tre colpi di pistola sparati in aria in piena mattina. E' quanto accaduto lunedì attorno alle 11 sotto il cavalca ferrovia di Pesaro a due passi dalla parrocchia dei Cappuccini, dalla stazione e di fatto dal centro storico. Un episodio inquietante sul quale sono intervenuti subito i poliziotti della squadra mobile che oggi hanno individuato il responsabile. Si tratta di uno straniero già noto alle forze dell'ordine per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e che fino a poco tempo fa era agli arresti domiciliari. I poliziotti lunedì scorso si sono precipitati sul luogo degli spari in seguito alla testimonianza di un uomo che camminava nei pressi dell'episodio e che se n'è andato terrorizzato. Agli agenti ha raccontato però di aver notato un acceso diverbio tra tre persone degenerato con uno dei litiganti che ha estratto una pistola per poi sparare tre colpi in aria. La squadra mobile intervenuta sul posto non ha trovato nessuno ma avviato una minuziosa indagine delle immagini di video sorveglianza che hanno consentito di risalire in fretta responsabile. Il sospettato è stato rintracciato e sottoposto a perquisizione domiciliare dove è stata trovata una pistola in metallo che è risultata essere una scacciacani priva di tappo rosso riproducente in maniera fedele una pistola vera. Il responsabile è così stato deferito alla procura della repubblica proprio per il reato di aver portato fuori dalla propria abitazione una scacciacani priva di tappo e dunque indistinguibile da un'arma a tutti gli effetti.